Avanti Pluto, andiamo a prendere un albero! Ti sto provando! Se trovi difficile fare una cosa puoi sempre chiedere aiuto. Sono qui per presentare la danza dei pippi, con me il protagonista! E ora... Il giorno! Topolino? Topolino? Chiamata per la casa di Topolino! Ci sei Topolino? Ciao Topolino terrestre! Caspiterina! C'è qui Topolino marziano! Ora abbiamo qualcosa che non avete mai visto! Un paperino incantato!